Il governo britannico ha varato un programma di sostegno economico dal valore di 1,57 miliardi di sterline destinato alle attività di produzione culturale. Obiettivo della misura è dare ossigeno ad un settore messo in ginocchio dalla pandemia da coronavirus e che occupa oltre 200.000 lavoratori. Nonostante l'aiuto pubblico, il ministro della cultura britannico resta pessimista. Purtroppo non tutto sarà in grado di sopravvivere, non tutti i posti di lavoro saranno garantiti e essere onesti non si può nemmeno escludere che ci siano licenziamenti ulteriori. Il blocco ha portato alla chiusura di musei e teatri lasciando disoccupati attori, registi e tecnici del settore che genera un volume di 5 miliardi di euro di attività. Ci auguriamo che questa misura possa evitare i licenziamenti che ci si attende per novembre e possa permettere ai teatri di programmare la prossima stagione perché la ripresa sarà difficile e costringerà scelte difficili. La decisione del governo di erogare un sostegno economico è stata presa in seguito alle proteste dei lavoratori del settore. L'esecutivo ha alleggerito le restrizioni imposte alla fine di marzo. Pub, ristoranti e musei riapriranno il prossimo fine settimana mentre i locali di musica dal vivo rimarranno chiusi.